Montesano sulla Marcellana, Salerno. La proposta degli studenti alla Regione Campania. Riapriamo le terme. Rilanciare il complesso termale, mettere in atto tutte le azioni necessarie perché le locali terme riaprano. È quanto hanno proposto gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Montesano alla Regione Campania. I ragazzi hanno partecipato all'iniziativa Ragazzi in Aula, un progetto del Consiglio regionale che offre alle scuole l'opportunità di comprendere il funzionamento del Consiglio. A coordinare i lavori della seduta i consiglieri Tommaso Pellegrino e Andrea Volpe che hanno ascoltato i ragazzi mentre illustravano la loro proposta per rilanciare il turismo a Montesano, partendo dalle terme. Un bellissima giornata, ha commentato il consigliere Pellegrino. I ragazzi hanno dimostrato impegno e competenza, oltre che un'eccellente preparazione occupandosi di un tema di grande rilevanza per il nostro territorio.